Sì, una volta stasera che la sto giocando, la telecamera non mi pu... chiedo scusa... bello... abbiamo almeno la pistola... abbiamo trovato già la mitra quindi andiamo già bene vediamo un po' la mappa se siamo un po' lontani dagli amici però c'è qualcuno? c'è qualcuno? ragazzo, mi sa che mi taggo un po' così eh guarda questa molestà qui da come ho capito che veniamo messi tipo in un carcere e i due che si sfidano sotto se uno vince li entra in partita se perde ovviamente la deve riavviare da capo ma se vince perché mi è capitato prima di vincere viene messo di nuovo in partita quindi direi anche un'ottima idea questa è una piccola seconda chance ecco qua ragazzi eh, se volto abbiamo la mitra vediamo un po' che è successo se volto abbiamo la mitra abbiamo perso mi sa che mi lagga però ragazzi eh mi sa che mi lagga un po' abbiamo perso mi sa che con questa modalità mi lagga un po' ora proviamo di nuovo ma mi sa che da come ho visto mi ha laggato io Vediamo un po' che succede Perché da come ho visto prima mi ha laggato un attimo Questa è un po' che c'era un po' che c'era un po' che c'era La squadra che stanno riusciti, sono formate e non ho capito come da quanti, sembra da tre. Vediamo un po', i miei amici si sono buttati, mi butto anche io. Cerchiamo sempre qualche appartamento, mi lagga leggermente ragazzi, mi lagga leggermente. Mi lagga, mi lagga.